Musica Abbiamo parlato di sussidiarietava in questa direzione la terza culla della vita in Puglia dopo le iniziative analoghe intraprese a Bari e a Taranto e a Monopoli l'ultima ruota di nuova generazione che offre una possibilità a chi non può accogliere una nuova vita il servizio è di Rosa Vitarelli è dedicata a Chiara Luna, la bimba abbandonata sulla spiaggia senza vita a febbraio scorso a Monopoli la culla per la vita del convento francescano creata perché un episodio come questo non accada mai più e che nessuna madre si senta disperata a tal punto da abbandonare per strada i figli come anticamente nei conventi la ruota serviva alle madri che non potevano tenere i neonati anche a Monopoli nella parrocchia San Francesco di Paola ora si trova una culla dove poter affidare il bimbo appena nato a braccia sicure e soprattutto in maniera anonima padre Michi, guardiano del convento, ce la mostra un bottone permette di aprire lo sportello dall'altro lato una culla dove poter adagiare il neonato in una stanza dove i frati accolgono il bambino dall'esterno si può passare così inosservati mentre nella stanza una videocamera di sorveglianza interna inquadra solo la culla, mai la madre una volta chiuso lo sportello scatta l'allarme e i frati possono controllare con una app sul telefono la videocamera vedere se c'è il bambino che verrà poi visitato dai medici della misericordia e affidato ai servizi sociali non vuole essere un incentivare le mamme o i genitori all'abbandono dei figli ma almeno per quei casi estremi perché ci sono nella nostra società dare un futuro e una speranza quindi noi abbiamo collocato nella parte anche più antica del nostro convento la culla per la vita questa botola che speriamo non si apra mai certo può sembrare che la società in questo senso stia facendo un passo indietro ma l'intento è solo quello di dare ancora una nuova scelta nella garanzia dell'anonimato un'ulteriore via a quelle madri che per diverse ragioni non sono in grado di dare un futuro ai propri figli noi come comunità parrocchiale, come comunità monopolitana ci prenderemo cura di queste creature che verranno abbandonate